Salve a tutti e benvenuti nel blog 1 Nel blog 1 vi farò... Beh, no, parlerò un po' di videogiochi e cose varie Bene, cominciamo immediatamente Prima di tutto Iscriviti Preso Scusate che compare sempre se è scritto iscriviti Vabbè, lascio stare Allora In questo blog, blog, blog Vi farò vedere più o meno per l'esattezza Ma per l'esattezza Vabbè, si è capito che non so cosa dire ragazzi Arrivo subito Vi farò vedere E questi qui Che sono Mario & Luigi Friends Eh, no, sarebbero i due fratelli di Mario E con questi ci farò le avventure di Super Mario Ma anche con i pupazzi, raga Ok E ricordatevi di iscrivervi Ah, sta Ecco, ecco Doveva venire proprio in questo momento Ho fatto bene E i miei vlog dureranno poco Vi farò vedere soltanto qualche cosa che ho E novità per il Nintendo 3DS Ma adesso non è che tanta roba da dire Vi dico soltanto che farò dei vlog Che ci sarà molte novità del Nintendo 3DS Alla prossima, raga Alla prossima, ciao Alla prossima, ciao